Ciao a tutti da Saridor e benvenuti su... nessuna nuova serie! No! Questa non è una nuova serie! Questo è semplicemente quello che faccio io quando non lavoro, quando non registro, quando non so che cazzo fare, quando mi dico che cazzo me lo fa fare! Eh vabbè pazienza, pazienza, non aggiungo altro! Guarda la visione! Abba, bene! Bambino! E' un bel piano! E' un bel piano se lo fa, un piano! No, no. la coppia più bella del mondo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.